Ancora supermercati nel mirino dei ladri. Dopo il furto messo a segno venerdì 9 ottobre in via Torquato Tasso a Fano, la notte scorsa i malviventi hanno fatto eruzione alla Coppia in via Circonvalazione Kennedy a Lucrezia di Cartoceto. I titolari, anche in questo caso, sono stati svegliati in piena notte quando intorno alle 1.30 è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della vigilanza privata insieme ai carabinieri di Saltara che sotto la guida del comandante Antonello Pannaccio ora dovranno visionare i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza. Quello che è certo è che i ladri, dopo aver fatto eruzione da una porta situata nel lato anteriore della struttura, si sono diretti negli uffici rubando la cassaforte che conteneva l'incasso dello scorso fine settimana, una cifra che supera i 10.000 euro. Grazie a tutti.